Il bando Ennit intanto è importante perché è il bando fatto apposta per i siti Unesco, per cui averlo vinto è veramente motivo di orgoglio per noi, poi ci consentirà di realizzare alcune attività che desideravamo ormai da tempo portare avanti, in particolare questa mostra itinerante con una joint venture con il National Geographic, che è una firma chiaramente internazionale e notissima, con un fotografo del National Geographic che verrà a fotografare le nostre colline e le porteremo in giro per il mondo partendo proprio dalla Germania, considerando che oggi abbiamo un incremento esponenziale della presenza di turisti esteri, più 40% rispetto all'anno precedente e la Germania è sicuramente una delle presenze fisse che abbiamo.